amici di facebook scusate c'è stato in linea io ho dovuto fare un ponte con un altro telefono perché non c'è al centro di reggio questo è un altro discorso comunque lasciamo perdere e spero che possa rimanere la trasmissione se no magari ci spostiamo là che l'altra volta andiamo più là andiamo più in qua allora spostiamoci più verso la città metropolitana allora speriamo di poter fare un discorso compiuto con voi allora ci stiamo attrezzando con nuove linee perché purtroppo a reggio se non mette al centro ci sono problemi di linea allora ecco qua vediamo se qua l'altra volta abbiamo trasmesso abbastanza bene allora stavo dicendo stavo dicendo la regina pare che abbia l'allenatore ora lasciamo stare la storia dell'allenatore perché voglio dire qualcuno mi ha chiamato l'allenatore è stato esonerato ma comunque voglio dire ci abbiamo non sappiamo se abbiamo giocatori fino adesso vedremo questione del giocatore di vocale perché ho detto regina nel caos brunetti ha detto che avrebbe vigilato non vigila niente dobbiamo vigilare noi dobbiamo vigilare noi reggini chiaro l'ho detto ai tifosi l'ho detto a tutti quelli che mi hanno incontrato e mi hanno chiesto ora vi dico come vedo io questa fase quindi abbiamo sto giocatore del vocale che è stato contattato da lo diceva oggi il presidente del vocale a cui ho fatti complimenti perché questo presidente questa società hanno dimostrato che reggio calabria lavorando bene lavorando con parsione vedete il presidente del vocale vi faccio questa questa confessione e cogliandolo che io non conosco spesso mi ha criticato su facebook ma non è perché mi ha criticato perché magari di un altro colore politico non gli piaccia non gli sono simpatico vedete qual è la libertà no si vede tutto a posto ok allora allora sentimemi bene il presidente del vocale io non lo conosco lo conosco perché a volte si vede ovviamente da facebook certe volte mi ha criticato legittimamente perché voglio dire ma quindi sarò antipatico non gli piace non sono lo stesso colore politico non lo so ma questo non significa che oggi io nella prima volta che l'ho ascoltato gli ho fatti i complimenti pubblicamente perché non è perché uno mi scrive una cosa che non va bene io non devo apprezzare il lavoro che fa lo riconfermo il lavoro che sta facendo a vocale io non conosco bene la storia ma lui l'ha spiegata oggi e questi sono i regini che fanno bene con sacrifici personali cercando sponsor cercando di fare sport di fare bravo brava la società di vocale io apprezzo che questi sono dei modelli come i nostri amici di santa caterina che sono veramente eh fanno un'azione civica enorme in ogni rione ci dovrebbe essere un comitato del genere che poi si deve si deve come dire eh deve andare a finire in una proposta politica quindi il presidente del vocale ha detto che è vero che questo parente della società che addirittura ha chiamato con un numero segreto immaginate come opera questa società con numero perché con numero segreto chiamate con nome e cognome sono tizio e caio parlo col giocatore invece hanno chiamato con numero segreto e gli hanno proposto al giocatore a dare alla regina e gli hanno detto di trovarsi anche così ha detto il presidente uno sponsor quindi questa cosa non è nel mondo dello sport possono succedere queste cose ma vi rendete conto a che punto siamo che questi vanno a prendere il giocatore del vocale gli chiedono pure di venire non solo non lo pagano vogliono lo sponsor cioè vogliono lo sponsor gli hanno chiesto pure di portare qualche sponsor per sostenere le spese basta che ce ne andiamo col cestino a fare l'offerta quindi vi rendete conto come abbiamo detto che questa società comunque fino ad oggi non ha dimostrato quella diciamo solidità economica che è una piazza come reggio merita dice c'è una parte dei tifosi piccola che dice dobbiamo ringraziare certo io li ringrazio ma non gli firmo cambiano in bianco perché hanno iniziato male quindi io quando cambio il mettono il nome la fenice possono mettere reggio sapete come si chiama l'altra società reggio fc food blockable quell'altra di bandita si poteva mettere reggio eppure reggio calabria con un'altra sigla non l'hanno voluta mettere per farsi la pubblicità della loro società di formazione universitaria non lo so che cosa faccia e hanno praticamente incollato quella fenice nel cuore della nostra città della nostro gioiello che la regina per farsi la pubblicità hanno cominciato malissimo oltre che tutte queste questioni dice che spenderanno un milione e sette un milione e otto di fatto abbiamo fatto i conti di fonti da quello che loro hanno detto spenderanno sette otto cento di euro ecco perché vanno cercando sponsor quindi perché noi dobbiamo dare un'apertura di credito voi a casa vostra fate entrare chiunque arriva e gli date apertura di credito per entrare a casa a fare quello che vuole a dormire a fare no ma questa è o non è casa nostra reggio calabria che io amo chiamare il reggio colacca è casa nostra o non è casa nostra se è casa di nessuno allora ognuno la lascia per me è casa mia quindi non possono entrare questi qua così calma con calma con calma noi dobbiamo verificare quello che fanno giorno per giorno sperando che possono fare qualcosa di buono se noi vediamo che fanno degli sforzi delle cose perché non hanno colpa loro la colpa ce l'ha ce l'ha brunetti che gli ha dato la società quindi piano 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 io vado al campo pago il biglietto non mi faccio l'abbonamento se devo andare in trasfetto voglio andare vado pago il biglietto dopodiché piano piano vedendo quello che fanno lo valuteremo insieme chiaro che cosa dobbiamo fare io l'ho detto a tutti i tifosi che ho incontrato secondo me questo è il mio suggerimento voi fate ognuno quello che vuole noi dobbiamo essere dei soldati e dobbiamo vigilare brunetti non vigila niente noi dobbiamo vigilare per proteggere la nostra città ok loro devono sentire ma io l'avrei detto anche per bandecchi la stessa cosa ok noi dobbiamo vigilare perché qua non vige i venduti si vendono avete capito come ve lo devo dire l'avete visto con saladini e con cardona tutti zitti e piba nessuno diceva il nome non osavano pronunciare il nome di cardona e di saladini in vano sapete perché perché erano tutti venduti tutti quelli che erano a piazza duomo tutti quelli che avevano stretto la mano tutti quelli che magari dico magari avevano ricevuto un biglietto magari avevano ricevuto l'amicizia no non me la posso sbacciare con cardona sei venduto tutti quelli che fanno così sono dei venduti e dei traditori quindi che dobbiamo fare intanto vi chiedo di non vendervi per un piatto di lenticchie ma di essere veramente dei soldati di reggio noi dobbiamo vigilare noi dobbiamo vigilare gli dobbiamo fare sentire il fiato sul collo non soltanto a questo presidente e a questa società e non dobbiamo discriminarli abbiamo già detto che quell'altro è un'offerta più grande ma è stato utile dirlo così come dobbiamo vigilare su su brunetti falcomandà e compagnie e falcomandà ora o la cassazione rigette si va a votare speriamo torna dobbiamo usare lo stesso atteggiamento anzi più rigoroso più rigoroso con i reggini traditori perché i più pericolosi sono quelli che sono reggini sembra che difendono la nostra città hanno un potere elevato e ci tradiscono e ci distruggono la città è rasa al solo per questo avete capito perché in parlamento una volta che vi ricordate che diceva quello di 5 stelle di battista dice io ho visto nel parlamento quando uno entra nel parlamento in un ambiente ovattato tutti sono amici tutti sono qua perché ognuno se la fa col compare fanno finta che si bisticciano e l'italia va a rotoli d'accordo la stessa cosa è qua dentro chiaro avete capito quindi siccome la casta è così noi dobbiamo essere contro questa casta contro chi governa male contro contro con chi governa bene dobbiamo essere vicino chiaro perché sennò non risolveremo nulla perché se qua cambia colore colore politico e ci sono sempre venduti che si vendono ci sono già venduti già prima di governare figuriamoci dopo quando governo quindi l'atteggiamento secondo me deve essere quello con questa società di vigilare dobbiamo vigilare con grande attenzione perché ripetiamo la cosa noi dobbiamo fare coincidere due interessi cacciatevi dalla testa che uno viene a reggio calabria per fare beneficenza sapete chi può venire può capitare un caso su un milione e c'è tipo per esempio quello dell'australia ve lo ricordate come si chiama nick scali scappato per un articolo di giornale il signore perdoni questo giornalista che ha distrutto questo ha distrutto nick scali e l'ha fatto scappare ecco nick scali era uno che veniva qua quello che ha bisogno della regina quello sapete che cosa ha bisogno di dimostrare nella parte finale della sua vita di dimostrare amore verso la propria terra mi pare che di città nuova non mi ricordo l'hanno fatto scappare quelli sono quelli che vengono per amore quelli che dobbiamo alzare le mani e dobbiamo dire entra nick scali uno come nick scali che lo viene soltanto per lasciare nella sua terra la memoria della sua persona e quindi ha l'interesse di lasciare quello tipo di fidare ma gli altri di chi dovete fidare perché quelli vengono per fare i loro legittimi affari allora bisogna stare attenti e dire voi fate gli affari ma mentre li fate ci dovete fare crescere voi fate gli affari e noi cresciamo e vinciamo non potete venire solo a fare i vostri affari noi siamo qua per dieci anni come ho letto poco fa sul giornale sul set web e che pare che brunetti abbia detto ma io questo non l'ho sentito con le mie orecchie mai ma lo spirito era questo no possiamo stare anche dieci anni inseriti io non so se è vero non è vero comunque era questo lo spirito avete capito non è non è non è questo una città deve sempre cercare di svilupparsi non può pensare rimanere ferma al palo in ogni cosa tanto è vero che lo spirito che ha brunetti che lo stesso di valcomandà ha portato la città ad essere proprio per antonomasia al palo ok quindi se voi siete d'accordo bene fatevi l'abbonamento voi pensate che dobbiamo fare dobbiamo far ricomprare loro i giocatori con i nostri soldi perché pensate che questo sia giusto fatelo per me non è giusta sta cosa io verificherei vedrei quello che fanno eccetera eccetera brunetti deve vigilare su sta cosa e lo sponsor perché pare che non sia nessuno ci sia nessun reato io ho parlato con i miei amici avvocati non è un problema in realtà è un problema di etica e morale è normale con gli giocatori venire con lo sponsor ci viene e poi ti trovi tu lo sponsor cioè porti i soldi e comunque hai la cosa che giochi al reggio secondo me questa cosa non è una cosa bella perché che cosa dimostra dimostra la diciamo eh dimostra che la consistenza economica è bassa che stanno facendo una raccolta fondi ora si arriverà un socio nuovo io questo non lo so lo auspico però vi posso assicurare che la partenza è proprio una partenza all'occa chiaro se ne assume la responsabilità brunetti ora vi annuncio questa cosa ve l'ho già annunciata da l'antenda febbea mi dispiace che purtroppo la diretta sui streaming che si è bloccata quindi non c'è perché hanno chiamato anche tanti concittadini probabilmente che stanno fuori legge che la volevano risentire comunque io vi dico quello che ho detto vi dico quello che ho detto io ho detto che io sono andato alle 18 a parlare con brunetti e mi sono sentito telefonicamente con Barrega direttore generale del comune ruppo di questo procedimento e ho chiesto per domani mattina la copia perché l'avevo richiesta vi ricordate con la pec del delle tre offerte delle tre società perché è importante questa cosa intanto me lo stanno chiedendo un sacco di cittadini e vogliono sapere vogliono avere chiaro quello che è successo quindi questo glielo dobbiamo per una questione di giustizia di chiarezza a tutti i cittadini che lo vogliono chi invece non lo vuole sapere non fa niente e legittimamente non lo vuole sapere farò quindi una commissione io sono il presidente al comune della commissione contro le garanze che controlla gli atti amministrativi di tutta l'amministrazione quindi questi sono atti amministrativi io toglieremo le cose ovviamente della pravi se ci sono quei dati che sono sensibili dopodiché a palazzo san giorgio noi faremo una commissione con tutti i consiglieri comunali che fanno parte della mia commissione della maggioranza dell'opposizione tutti i cittadini che vorranno venire possono venire perché le sedute di commissione sono pubbliche possono i giornalisti possono i cittadini può venire perché la seduta è pubblica chiederemo con le carte alla mano le motivazioni con i dati e con quello che c'è scritto alla a a a brunetti io ho chiesto anche il verbale della commissione vorrei sapere che ha detto con dipotero vorrei sapere che hanno detto i commercialisti vorrei sapere che hanno detto gli altri vorrei sapere che c'è un verbale sono verbale ancora ora aspettiamo quindi tenetevi pronti cari concittadini perché la prossima settimana vediamo il giorno quando ma sicuramente la prossima settimana ci sarà questa commissione chi vuole venire viene chi non si collega da internet c'è anche la possibilità per un numero limitato da internet perché il programma abbiamo grandi programmi qua c'è pnrr informatizzazione e abbiamo un computer scassato con la linea che fa schifo apre chiudo a parentesi quando sentite che i progetti pnrr rpm cose collegamenti mondiali internet intercontinental non c'è niente qua c'è un filo c'è una cassa di schifo due cassi di schifo con un computer mediocre ogni tanto si blocca quindi questo è il comune di regione comunque quindi chi vuole venire può venire direttamente la cosa qual è perché secondo me è importante non solo perché l'hanno chiesto i cittadini ma perché lo ritengo giusto io se non l'avrei fatto perché al di là di tutto di quello che comunque sta camminando c'è la società che hanno rinviato mi pare l'ultima partita non so a quando a quando a quando e quindi quando la giocheremo questa partita lo dico ai miei amici che sono qua il 23 24 settembre quindi stanno rinviando partite va bene comunque giocheremo una partita al giorno praticamente comunque c'è stato il tempo di fare la squadra mentre la società si prepara noi vigiliamo e vediamo quello che è successo perché la città deve sapere gli elementi oggettivi come falcomatà anche qui l'app su soffrediamo brunetti ha sbandonato a del san manca dopodiché chiusa parentesi io vi hanno scritto conto e non conto io se fossi stato il sindaco avrei valutato le persone avete capito infatti ho fatto questo esempio se bill gates fosse venuto se ron masque fosse venuto se un arabo fosse venuto con due fogliettini dicendo mi piace la regina mi sono innamorato di una regina e mi amo la regina che avremmo fatto noi a un plurimiliardario che ci dava due paginette noi chiedevamo la società verificavamo il soggetto e gli trovavamo la società il più ricco perché se vale il principio che abbiamo detto prima al netto degli imbroglioni che poi vengono pure gli imbroglioni solo per imbrogliare manco per fare affari per imbrogliare allora non possiamo quando capita come ci è capitato ma pazienza che dobbiamo fare ma non è meglio prendere quello più facoltoso soprattutto bandecchi che era un uomo politico ed è un uomo politico e secondo me non sarebbe mai venuto a regio per fare cattiva figura hanno fatto questa scelta politica ci hanno messo in questa situazione allora noi dobbiamo anche sapere la verità e se i cittadini vogliono vedere quelle carte proprio perché l'amministrazione si impronta sui principi di trasparenza non c'è nessuna trasparenza in questo palazzo vi dico questa io ho difficoltà la mia segretaria della commissione controllo e garanzia ha difficoltà a trovare le mail interne per mandare le convocazioni a quell'interno perché se i cavoli di siti li aggiornano poi li lasciano poi cambiano un casino per esempio oggi dove venire la mia commissione il responsabile del decreto reggio la segretaria l'ha mandato un indirizzo che non era quello aggiornato perché poi li aggiornano quindi ti incasino ti fa altro che trasparenza il presidente della commissione controllo e garanzia non può manco controllare lui figuriamoci i cittadini ordinari capite che cosa si è creato si è creato un muro allora io credo che la trasparenza sia la cosa più importante poi c'è anche alcuni tifosi che pensano che noi dobbiamo finirla e queste non sono polemiche io non è che sto facendo polemiche io non sto facendo nessuna polemica io sto facendo un'azione di trasparenza come ho fatto per i beni confiscati come ho fatto per le case popolari come ho fatto per il miramare sapete che il miramare 1 è nato per le mie diciamo sono andato io la prima volta al miramare ho visto i lavori sono venuto a qualche delle cose mi hanno mandato malanova da tutte le parti ho continuato poi ho fatto la denuncia va a calibre due giorni dopo ma l'azione protromica l'avevo fatta io contro tutto e contro tutto poi sono venuti anche i miei colleghi dell'opposizione e poi è nato il miramare e il miramare bis che potrebbe nascere da dove è nato è nato da una mia commissione che si documenta eccetera eccetera perché qua non solo gli avevano dato all'amico il coso il bene più prezioso della città non non si erano costituiti parte civile che il comune che si costituisce parte civile contro tutti i cittadini per ogni minima cose contro i dipendenti dipendenti non si costituisce con i dirigenti col dire la dirigente e con la giunta e col sito vi rendete conto in che bene siamo io ho fatto lo faccio per tutte le cose l'ho fatto quando sono andato alle case popolari a rione marconi ho scritto quando sono andato al ponte di sant'anna con tutte le mie battaglie cerco di fare quello che posso cercando di rendere trasparente di scrivere alle autorità competenti cioè questo dobbiamo fare ma vi posso assicurare che la cosa più che colpisce è questa io perché faccio queste dirette quotidiane perché la cosa che colpisce più chi fa opere malvagie so è la trasparenza quindi io dico a tutti i tifosi tutti gli ultras i tifosi quelli un po più anziani come me quelli ancora più anziani dico una cosa ecco qua dobbiamo essere uniti giovani anziani e meno anziani dobbiamo essere uniti dobbiamo fare un fronte unico di protezione chi si vuole si fa l'abbonamento chi vuole usare diciamo la visione che ho io c'è quella di come dire di non firmare cambiano in bianco perché non dobbiamo firmare dobbiamo fare entrare a casa nostra tutti alla prima battuta e vi ripeto vi ricordo quello che ha detto il direttore generale quello diciamo che mette i soldi non mi ricordo manco come si chiama ballarini come si chiama il insomma il direttore generale quando ha detto io quando finisco di parlare io non parla più nessuno quindi immaginate che impostazione nella casa dei reggini davanti al sindaco un consigliere comunale e un altro sindaco immaginate di pronto io mi sono arrabbiato io l'ho detto però l'approccio è stato questo arrivano qua ecco c'è entrano nel cuore della città e comandano cioè se fossi stato io il sindaco che sei stato zitto lui io no io avrei fatto saltare metaforicamente i tavolini in aria lo scusi lei è venuto qua per far prenderci a pesci in faccia cioè lei finisce la riunione che l'ospite ma si è mai vista una cosa del genere che l'ospite finisce la riunione come lui quando ha finito di parlare praticamente si è fermato si è alzato e cominciato a dare la mano ci ha finito senza neanche un bricio dell'educazione la riunione perché dice qua tanto sono il comune di peregottari avete capito quanta forza ci vuole per proteggere le istituzioni quindi i cittadini che sono dentro le istituzioni avete capito quando avete strappato le schede elettorali perché ho detto ai miei amici ai miei concittadini non venite a strappare le schede che non serve a niente perché poi quando uno strappa la scheda per continuare la sua proiezione non deve manca andare a votare che facciamo facciamo gli facciamo fare i treditori venduti le liste per cui vincono le elezioni e noi strappiamo la scheda noi dobbiamo andare a votare altro che non strappare la scheda e votare quelli che riteniamo i migliori non i venduti quelli che voi riterrete i migliori quindi i tifosi devono fare una barriera questo è molto molto importante cari concittadini perché se non la facciamo noi i venduti ci vendono ci hanno venduto ci vendono oggi e ci vendono domani nelle mentite spoglie sono dei sepolcri imbiancati la lotta sapete contro chi la farò contro gli ipocriti farisei sepolcri in biancati a massimo ribevi il piccolo massimo ribevi lo vedrete avete visto che sentito che ha detto quel ragazzo che riserva se se la prendono con te quel ragazzo l'ho conosciuto qualche ora prima mi ha commosso per quello che ha detto dice se toccano te toccano pure noi grazie michele ti ringrazio ce ne sono tanti come michele e io spero che saremo un esercito talmente grande che questi venduti si devono spaventare della luce non delle pietre che noi non dobbiamo lanciare né della violenza che non dobbiamo mai fare chiunque farà violenza non sarà mai collegabile a massimo ribevi che non vuole in nessun caso che si esercita la violenza poi nelle grandi masse se parte uno e fa una cosa che ci posso fare perché la violenza non solo è ingiusta non serve a niente ma sapete quanto serve quando noi andiamo gli faremo le domande a brunetti ma come mai ha scelto questa questa società fatta state attenti che questo è un passaggio importante lo vedrete ve lo farò vedere questa cosa questa società fondata da questi soci con patrimonio personale certo me lo volete dire come si chiama che non me lo ricordo scusate il direttore generale va come si chiama ora non me lo ricordo ora ve lo non mi ricordo come si chiama il direttore generale quello che ha messo ora ve lo dico forse la mia mente lo rimuove l'ha già rimasto lui la figlia un altro parente non lo so erano tutti della stessa cosa famiglie giusto dall'altra parte invece c'era una società unico usano 2 miliardi di patrimonio c'era questa piccola cooperativa di reggini meravigliosi che hanno fatto un'azione meravigliosa gli dovreste conoscere uno per uno solo per quello che hanno fatto e per lo sforzo che hanno fatto per entrare ad aiutare ballarino ecco me lo dimenticherò sicuramente ma ballarino e tutta la sua famiglia giusto poi c'era una una concessionaria e poi c'era quel cittadino reggino di saline che è solido economicamente 35 milioni di euro di fattura torata che voleva venire a investire qua anche nel verde pannelli fotovolta di fare l'utile e tutti devono trovare il proprio utile chi è che di noi che è disponibile a mettere un 2000 euro per la regina nessuno perché l'abbonamento che carica un cittadino non è niente non è che noi quando facciamo l'abbonamento facciamo il biglietto stiamo facendo beneficenza alla regina stiamo andando a vederci uno spettacolo che ci piace quindi noi non possiamo essere anche noi ipocriti dobbiamo semplicemente vegliare viene imprenditore viene a fare affari qua benissimo ci stiamo lui fa i suoi affari ma ci deve dare la soddisfazione di fare una squadra degna della città di reggio dice che il reggio non è degno eccetera eccetera gentilmente non partecipa se ne vada nelle segreterie politiche dei venduti e si promette che vi dà il posto di lavoro voi i venduti e i traditori quelli bravi che fanno io guardo negli occhi sanno percepiscono dalle richieste che gli fate da quello che pensano quello che avete bisogno e vi dicono tutto quello che si te lo darò dopo le lezioni sei tranquillo parola mia che morisse mio figlio quante volte ho sentito che morisse mia mamma che morisse giuris per giuro pur di non perdere i voti cose mazzesche dopodiché quando fiscano le elezioni cambiano il telefono e se andate a chiedere qualcosa mi vanno pure alcun paese chiaro quindi la nostra città la salviamo noi vi prego peggio di così non possiamo pure l'evento l'evento di beneficenza o signore mio anche l'evento non hanno monitorato su questa su questa società sera sera c'è cose cose solo hanno patrocini il patrocino praticamente senza manco controllare quindi vogliamo stare uniti vogliamo un attimino pazientare per vedere quello che fanno vogliamo anche vedere le carte insieme ok ci daremo appuntamento il giorno della cosa io vi dico quando è chi vuole venire viene chi si vuole collegare chi vuole vedere gli assunti di quello che si farà siete liberi voi l'importante che la cosa diventa trasparente dopodiché ci rendiamo conto di quello che è successo è giusto rendersi conto sì lo dico a tutti i giornalisti che fanno un ruolo importantissimo tutti non vi vendete pure voi per un piatto di letticchi siate liberi c'erano quelli liberi e quelli non liberi è sempre così funziona così siate liberi certo che c'è una linea editoriale ovviamente ma io spero che anche nella stampa ci sia una crescita di trasparenza cioè guardate ora vi dico questo se io fossi stato al posto di califano mi avrebbero crocifisso qua a piazza italia e mi avrebbero fatto pubblico ludibrio cioè se io fossi stato al posto di califano mi facevano mi lasciavano come si c'è qua sta cosa così io non ce l'ho con califano né con la sua famiglia che conosco lo dico a gialluca lo dico a suo padre che conosco e lo dico a suo fratello che non conosco no io non posso fare io nel momento in cui svolgo ruolo pubblico per me ruolo pubblico è sacro mi devo ritirare e poi posso fare l'amico di tutti chiaro il ruolo pubblico è sacro quando succede qualcosa non è che voi avete fatto nessun reato qua è una questione di opportunità perché non è possibile il consigliere comunale di italia viva con italia viva sindaco è la sede della società della cognata del fratello di califano questa cosa non è possibile come una questione di opportunità non è nessun reato cioè io non sono un avvocato non so se si configura un reato non lo so comunque è una questione di opportunità rispetto alla cosa pubblica no tutto qua è chiaro ognuno può partecipare può fare punto vogliamo trattare le questioni in maniera trasparente senza fare compare come se io facessi sconti a gialluca o a chiunque o voi fate sconti a me voi non dovete farmi sconti neanche a me io sono una persona pubblica sono al servizio dei cittadini e so di essere verificato al punto e virgolo sapendo che ho il rischio pure che mi mettono gli scheletri nell'armatico come hanno tentato di mettermi vi ho già anticipato che me ne combineranno tutti i colori quando cominceranno a combinarmi le commenteremo insieme su tic toc su facebook e su instagram così tutti quelli che vogliono ascoltare ascolto così farò io quando mi arriveranno le prime grane che mi arriveranno perché ovviamente questa storia deve finire giustamente no può continuare la storia di massimo ribevi che dice queste cose no non deve continuare ritornare nell'obbligo non vi preoccupate che se anche mi accoppato a me c'è tutto la schiera che parlerà e poi quando mi scopro quando sono fuori dalla dal velo che mi metteranno ritornerò a parlare fino a che ho vita non vi preoccupate che io farò vi dovete spensare d'accordo perché secondo voi è giusto cioè vi dico perché secondo me è giusto fare così è giusto fare così perché lo dobbiamo fare per amore della verità della giustizia lo dobbiamo fare con il massimo dell'amore perché l'amore è forza non è debolezza la violenza è debolezza l'amore è forza dobbiamo fare per quei ragazzi che avete visto per quelle famiglie che io ho conosciuto per caso che mi hanno commosso e come noi ce ne sono tantissimi che mi scrivono tutte le parti che hanno desiderio di ritornare e di riscattarsi chi lo deve fare dobbiamo fare noi che partiamo da qua che siamo di reggio e che si abbia avuto la fortuna per me una grazia essere rimasto reggio palazzo non è una iattura nonostante una città difficoltosa ok quindi brunetti non vi girerà niente questa amministrazione non ne parliamo lo dobbiamo fare noi cittadini in questo caso noi tifosi e questo modello e chiudo lo dobbiamo applicare su tutte le cose siete d'accordo questo modello della dell'esercito del bene che si schiera dinanzi ad ogni battaglia ad ogni ingiustizia andremo a difendere tutti quei cittadini che non hanno la casa popolare che l'hanno sono in gradatoria da dieci anni e non hanno non hanno assegnato una casa me l'ho fatta vedere due case andremo a vedere quelli che stanno nei luoghi di sofferenza andremo entreremo con loro nella loro sofferenza loro bisogno per cercare di risolverlo per cercare di creare un'alternativa politica per risolvere i problemi di cittadini questo fa la politica buona non generalizzate non vi mettete dietro quelli che fanno generalizzazioni tutti fanno schifo tutta la politica fa schifo allontaniamo la politica questo è un modo per favorire i traditori venduti lo volete capire sì o no quando voi dite così sta vi state tagliando le dita c'è state vi state depotenziando nell'unica azione che abbiamo noi cittadini che è quella di andare a votare chiaro se voi lo fate vi volete suicidare suicidatevi io non mi voglio suicidare io voglio combattere per la mia città ok quindi tutti quelli lo dico perché me lo chiedono tutti tutti quelli che si vogliono iscrivere in questo esercito io sto preparando la piattaforma ufficiale mi potete scrivere su messenger nome cognome nuovi telefono io vi chiamo stiamo facendo una chat in questa chat ci saranno i soldati di questo esercito si chiama reggio rh e reggio 743 che sono noi siamo reggio 740 e poi c'è una viatriba tra gli studiosi e gli storici tra il professore amato che ha una versione il professore che io ho preferito la versione del professore daniele castrizzo a cui ho chiesto prima di dare questo nome e non l'ho dato io avevano dato loro prima quest'idea di reggio 740 e non è mia io l'ho soltanto mutuata per renderla diciamo una proposta politica insieme all'area dello stretto e ci dobbiamo staccare dalla calabria noi dobbiamo essere qua siamo l'area dello stretto la stanno venendo speriamo il ponte sullo stretto che è l'unica cosa buona che hanno fatto ma non per noi hanno fatto per un altro serie di ragioni ma ci darà un grande beneficio dopodiché dobbiamo combattere insieme per salvare reggio calabria io voglio chiamare reggio senza calabria arrivederci carico cittadini ci vediamo domani ci aggiorniamo tutti abbiamo un ruolo importantissimo lo dico sempre ai miei amici giornalisti lo dico a voi cittadini lo dico ora ai tifosi tutti da soli non possiamo fare insieme possiamo fare tutti arrivederci e dio benedica reggio calabria arrivederci buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata